Sono contento, sono contento perché, come dice il titolo di questo video, se ne sono accorti tutti. Dopo quasi due anni, gli opinionisti critici, gli scettici, si sono accorti che il Milan e il progetto del Milan è una cosa seria. Ci voleva un po' di tempo, ci hanno messo quasi due anni, da quando hanno sottovalutato, per esempio, il cammino dell'estate del 2020. Quando il Milan, volevo ricordarlo, ha realizzato in 12 partite finali da giugno 35 gol, con una media, ovviamente, 36 diviso 12 fa 3, quasi di 3 gol per partita, collezionando 30 punti a pari merito con l'Atalanta. E questo non è bastato. Poi il Milan parte bene in campionato, è a lungo in testa, quasi sempre primo, raramente secondo, mai terzo, fin quando ha il doppio intoppo, Spezia e Inter. Lì ha un sussulto senza mai perdere il secondo e toccando il terzo raramente, quarto mai, e subisce la volata straordinaria dell'Inter che conosceva solo un sostantivo, vittoria. Pur, nonostante queste difficoltà, non solo sul piano non solo sul piano dello spirito, ma sul piano della forza mentale, il Milan riesce ad arrivare secondo nella partita più difficile degli ultimi otto anni. La partita che, se non interpretata meravigliosamente dai ragazzi di Stefano Pioli, potevano costare un tragico, possiamo dire tragico, posto in Champions League. Un posizionamento, una qualificazione in Champions League. Nella partita più difficile, più complicata, il Milan vince a Bergamo. E questo non è ancora sufficiente. La squadra si rafforza, si rafforza in maniera intelligente, senza troppi svolazzi, ma con grande efficacia, prendendo un vecchietto, ah, i due vecchietti, Giro avete visto che campione, tornato in nazionale segnando subito il gol. Però, se lo prende un'altra squadra alla stessa età, è un acquisto oculato, il nostro è un acquisto vecchio. Ma non importa, il Milan parte affiancato al Napoli, straordinariamente in testa per dieci partite, direi ordinariamente in testa, visto le ultime prestazioni, visto le ultime settimane, visto l'ultimo rendimento degli ultimi settimane e anche di mesi. No, sempre Milan ospite. Adesso, il Milan in questa stagione, dopo aver di essere stato in testa per tante partite, rischiando la debacca e andando dieci punti potenzialmente all'Inter, riesce a vincere la partita, la partita del sogno mio del tie-break, la partita contro l'Inter e nonostante uno sconquassamento, riesce poi, vedi partita con i pareggi con Salernitana e Udinese, riesce poi a ritornare in testa la classifica. E adesso sento che gli altri cominciano a pensare che il Milan sia un candidato serio per il titolo finale. Meno male, meno male. Cosa è cambiato? Forse è cambiato qualcosa quando la squadra ha vinto paradossalmente due volte 1-0 contro l'Empoli e contro il Cagliari, chiaramente dopo anche l'1-0 contro il Napoli, ma questi ultimi due 1-0 nelle partite considerate trappola perché che il Milan batta il Napoli, gli opinionisti critici e gli scettici ci poteva stare visto il rendimento contro le grandi squadre. Ma tutti aspettavano la controprova contro Empoli e Cagliari e la risposta, quell'1-0, meglio che un 5-0 magari con l'Empoli e 3-0 col Cagliari. No, quel doppio 1-0 forse ha portato tutti a pensare che il Milan sia veramente solido e maturo, come noi sempre sapevamo. Ecco perché adesso c'è la grande attesa per la partita col Bologna, una partita che si annuncia particolare, visto quello che è successo all'allenatore e proprio i colleghi di Bologna parlavano di Bologna United per dire che in queste situazioni c'è un modo particolare di compattarsi, un ostacolo in più per il Milan, ma indubbiamente troveremo un Bologna particolarmente carico, particolarmente commosso, particolarmente emozionato, ma in termini positivi, in accezione positiva, proprio per dedicare, non so se il risultato, io da finalista spero di no, ma certamente una prestazione degna per l'allenatore che in questo momento non può essere sulla panchina. Quindi un elemento ancora importante e anche il Milan deve onorare il ricordo recente di Mialovic, allenatore proprio del club rosso-nero, giocando una grande partita, una partita che deve certamente confermare le ultime prestazioni solide e mature, in attesa poi, adesso non lo sappiamo, ma il Milan lo saprà, dei risultati fondamentali. Quel 3 aprile sarà una delle svolte cruciali del campionato, perché secondo me il gruppo perderà dei pezzi, sperando che il Milan sia sempre in testa al gruppo, ma Atalanta-Napoli-Inter-Juventus o tutte e quattro in caso di due pareggi e vittoria del Milan, e allora lì la situazione si complicerebbe per tutte e quattro, ma per le perdenti è l'addio a tutti i sogni di gloria, secondo me, a meno che sconvolgimenti. Quindi non so chi perderà, ma quello che più interessa è capire lunedì domenica sera quale sia la situazione e poi concentrarsi unicamente su questo Milan-Bologna. Un Milan-Bologna che vedrà Pioli, che ieri in un articolo di Alessandra Bocci sulla Gazzetta dello Sport è stato addirittura paragonato a Ferguson, non tanto per la storia, è un po' presto per paragonarlo a Ferguson, ma più che altro perché ormai è il catalizzatore, cioè senza troppi strepiti, senza troppi proclami, senza troppi tromboni e annunci, sembra che Pioli, io non vivo a Milanello, sia veramente il catalizzatore di tutto quello che succede, è diventato il punto di riferimento importante, non diciamo parole più grosse, il punto di riferimento più grande proprio a Milanello, a livello di squadra, a livello di alimentazione, a livello di ogni piccolo particolare, il fatto che abbiano spostato il suo ufficio lontano dagli spogliatoi. Insomma, Pioli, che non ama tanti, ripeto, tanti proclami, non ha l'effetto alune dell'allenatore strombazzante e però senza parlare si muove ed è oggi il punto di riferimento. formando con Maldini e Massara, altro fatto importante, sempre presenti agli allenamenti, un trio, un tridente, diciamo così, perché un trio sembra un gruppo musicale, un tridente affiatato, ognuno con i suoi obiettivi, ognuno con le sue mansioni, proprio perché ci sia una sorta di unità di intenti straordinaria. Tutto questo porta il Milan adesso ad avere una convinzione forte, una sicurezza forte. Dicevo, Pioli vedremo che formazione metterà in campo, credo che non si andrà lontano dai giocatori presenti a Milanello, quindi Megnan, che pure è in nazionale. Calabria, Tomori, lo stesso Calulu, anche se in nazionale oggi lo preferiscono certamente contro, anche se c'è il grande Arnautic, ma abbiamo superato la prova Pavoletti e Teo Hernandez. A centrocampo lì, se è il Cilì, veramente bisognerà capire. Trattonali, Benasser, che sì, se giocheranno tutti e tre con che sì là davanti, o visto che è una partita da vincere con proposizione in attacco, sacrificherà uno dei tre per mettere ancora Diaz. Per quello che riguarda Messias a destra, lascio un dubbio, non mi sorprenderebbe, signori amici, che metta Rebic a sinistra, in grandi condizioni di forma, è la partita giusta per portarlo ai grandi livelli. E là davanti vedremo tra Giroud e Ibrahimović, anche se sempre Giroud, il favorito per giocare titolare contro il Bologna. Milan poi non giocherà mai il mercoledì fino alla partita con l'Inter, quindi Pioli certamente dovrà, diciamo, conciliare due esigenze. L'esigenza di fare salire la forma di quelli un pochino più indietro, ma anche l'esigenza di non toccare un gruppo o una formazione, un 11, che gli sta dando tante garanzie. Lì sarà un'altra prova importante, non da superare, un fatto importante, una prova importante per Pioli, perché l'allenatore non deve più sbagliare. Ha la fortuna di vedere, ovviamente, di essere il protagonista, di guidare gli allenamenti e non esita a capire quale sia la situazione e capire quale sia il giocatore più in condizione o meno in condizione. Ma se in questo momento dovessi io scommettere qualcosa, visto che poi le ha impegnato nella partita dopo domani importante, lo spareggione con la Macedonia, ebbene penso proprio che Rebic possa essere favorito. Per me toccherà a Rebic, vediamo se poi mi sbaglio o no. E se dovesse giocare, se dovesse giocare poi, che sì, nel finale di partita, beh, un Leao e un Diaz a sparigliare le carte potrebbero portare ulteriori problemi alla difesa del Bologna. Abbiamo parlato dunque di un Milan del quale finalmente tutti si sono accorti, a livello di convinzione, mentalità, potenza, classe e qualità, quanto sia il valore del Milan, e poi abbiamo parlato di formazione. In questo pomeriggio ancora rilassante, ancora da dedicare al coregone, che è un pesce da gustare magari all'isola Pescatori o sul lago di Como, e poi dico regoni, bisogna dimenticarli la domenica, bisogna concentrarsi a partire dalla domenica, dal weekend, che vede il Milan impegnato il lunedì, e poi ci sarà la partita col Torino la domenica sera, e il venerdì sera, alla vigilia del weekend pasquale, l'impegno con il Genoa. Però una cosa è certa, tutti si sono accorti. Il Milan non ha problemi a volare basso, il Milan non ha problemi a volare alto, se tutti si sono accorti della sua forza. Il Milan non ha problemi, punto. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati, e attivate la campanella, anche di domenica.